Con le primarie chiuse, il Movimento 5 Stelle ha voluto annunciare con un lungo post sul blog di Beppe Grillo la difesa di rito davanti alle polemiche sorte sia sulla gestione operativa del voto a candidato premier, e sia sulle modalità politiche che di fatto, hanno reso queste primarie online una lunga attesa di incoronazione di Luigi Di Maio a nuovo leader e capo politico grillino. I dati delle votazioni verranno custoditi da due notai e saranno resi pubblici solo domani alle ore 19 dal palco di Italia 5 Stelle a Rimini. La partecipazione registrata è stata non a caso tra le migliori di sempre, ed è stata realizzata nonostante il doppio passaggio dell'SMS sul cellulare, istituito e utilizzato per la prima volta per garantire la sicurezza totale del voto, scrive il M5S ringraziando gli iscritti, e gli stessi candidati. Nel consueto gioco d'attacco contro i media, il blog di Grillo fa sapere ai giornalisti, ai commentatori, agli opinionisti, ai soloni dell'informazione che, dall'alto delle colonne dei loro giornali che non compra più nessuno e dall'alto dei loro talk e tg che registrano sempre meno ascolti, si sono messi a giudicare e denigrare, mossi unicamente da fini politici, e senza la cultura di base minima per capire quello che abbiamo realizzato. Immaturi, caos, truffatori, verticisti sono solo alcuni degli insulti che ci hanno rivolto. Ci siamo abituati, non ci scalfiscono. La notizia è che tutti hanno avuto la possibilità di candidarsi, e nessuno è stato spinto a farlo per costruire competizioni farlocche, e tutti hanno avuto la possibilità di votare. La notizia è che non c'erano correnti che si confrontavano, ma persone che si proponevano. Una nota di demerito la segnaliamo anche noi però. Il post in questione si intitola Libertà di partecipazione. A ben vedere il senso e l'opera voluta da Giorgio Gaber, forse non era esattamente pensata per questo tipo di primarie grilline.